Compair è nota per la sua attenzione allo sviluppo di prodotti innovativi per il risparmio energetico come forco ore ultima. Una filosofia di ecodesign utilizzata anche nel nuovo essiccatore d'aria compressa con l'innovativa tecnologia Subfreeze. Combinando i vantaggi degli essiccatori ad assorbimento e a refrigerazione, questa unità compatta rimuove l'umidità fino a una portata massima di 1600 m3 di aerea compressa all'ora con un punto di rugiada impressione ISO classe 3 di meno 20 gradi Celsius. Tuttavia a differenza di un essiccatore idroscopico a un ingombro molto più ridotto non richiede lo stesso livello di manutenzione nella sostituzione del costoso materiale essiccante. È silenzioso e può funzionare sia con compressori senza olio che con compressori lubrificati. La cosa più impressionante è che grazie al suo sistema brevettato con doppia camera di essiccazione e con recupero di calore integrato. Questo essiccatore può garantire un risparmio energetico fino al 70% rispetto a prodotti equivalenti più rispettoso del pianeta e dei vostri profitti. Il nuovo essiccatore è rigenerativo refrigerante con punto di rugiada sotto zero innovativo ed efficiente dal punto di vista energetico di Compare Smart Engineering.